Pasqua, Pasquetta, cosa farai? Quello che hai fatto l'anno passato in una casa chiuso blindato, come tu fossi un carcerato. Con la bandiera andrà tutto bene, sporca e sguelcita e arrugginita con il pensiero ce la faremo, che tutto suona come blasfemo. Arriva poi l'estate e vacanza ancora chiusi dentro una stanza e infine il Natale e il Capodanno che assomiglia lo scorso anno, poi l'anno nuovo che si ripete, ma non temete, ce la farete. Quando è esplosa l'epidemia ci sono stati, e i dati ufficiali sottostimano il fenomeno, 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti dal virus. In questo momento 2.074 sono i ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 2.074 sono i ricoverati in terapia intensiva.